È un momento di gioia assoluta per Alessia Marcuzzi. In attesa di rivederla in onda, la conduttrice televisiva ha voluto condividere poco fa con i suoi follower una notizia grandiosa che riguarda la sua famiglia. Un avvenimento che l'ha resa orgogliosa e che ha fatto felici anche i suoi fan, con i quali la Showgirl mantiene da sempre un filo diretto. Annuncio speciale da Alessia Marcuzzi. La Showgirl utilizza i social network non solo per questioni legate alla sua attività professionale, ma anche per condividere aspetti della sua vita privata e quella della sua famiglia. Stavolta Alessia ha voluto parlare come mamma. La notizia, infatti, riguarda uno dei suoi due figli. La presentatrice è al settimo cielo dopo questo avvenimento che l'ha gratificata particolarmente. Traguardo speciale per Tommaso Inzaghi. Il figlio avuto da Alessia Marcuzzi insieme all'ex calciatore e attuale allenatore di calcio Simone Inzaghi ha raggiunto un grande obiettivo a 23 anni, è diventato procuratore sportivo. Un ulteriore passo in avanti per lui. Tommaso si era laureato due anni fa in Business Day Media presso la University of Westminster. Marcuzzi ha voluto informare i suoi fan di questo successo del figlio. A dare l'annuncio è stato Federico Pastorello, agente FIFA e procuratore sportivo. Sono così felice di festeggiare la tua licenza FIFA. Ora sei un vero agente. Alessia Marcuzzi non si è trattenuta e ha condiviso nelle sue Instagram Stories il post di Pastorello aggiungendo un emoji a cuore e degli applausi. Numerosi sono stati i commenti dei fan al post, grandissimo Tommy. E poi con un maestro del genere tutto è possibile, congratulazioni, eccellente. Anche Alessia Marcuzzi ha commentato il post Instagram con tantissimi cuori che esprimono a pieno tutta la sua gioia per questo momento. Tommaso Inzaghi è nato il Nato il 29 aprile 2001. Il figlio di Alessia Marcuzzi oggi vive tra Londra, Roma e Milano. Lo scorso novembre, Tommaso ha annunciato i suoi primi passi nel mondo del lavoro in un campo molto amato da suo padre Simone e suo zio Pippo. Oggi Tommaso festeggia il suo primo traguardo lavorativo a soli 23 anni.